Vogliamo cominciare la nostra diretta di oggi, andiamo in Puglia, sono intanto molto molto contento di dare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno a Gigi Brandonisio in collegamento con noi. Ciao Gigi, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, grazie mille per l'invito. Allora, intanto sono io che ringrazio te per aver accettato di conversare con me all'interno di almeno due pagine al giorno intorno a questo festival che mi ha sempre incuriosito e primo po' mi dicevo avrei provato a raggiungerti per provare a declinare un po' questo festival della disperazione che torna per l'ottava edizione dal 7 al 16 giugno ad Andria, correggimi se sbaglio, intanto però ovviamente te l'avranno chiesto tutti e io non sarò da meno perché intitolare nel ventunesimo secolo un festival, dedicarlo quantomeno alla disperazione che si legge tra le note diciamo della manifestazione, il sentimento letterario per eccellenza. Noi qui decliniamo la letteratura tutti i giorni a 360 gradi, intanto da dove nasce l'idea del festival della disperazione? Gigi, grazie ancora. Ma sì, intanto tutto giusto e grazie per le indicazioni, in effetti è una domanda a cui ho risposto tantissime volte e oggi è il festival stesso che risponde a quella domanda perché con otto edizioni all'attivo, questa sarà l'ottava, effettivamente forse è un sentimento che esplora davvero la letteratura ma in particolare il contemporaneo. Se vogliamo parlare proprio dell'origine del festival, dell'idea iniziale, come tutte le cose un po' starampalate che ci piace fare, nasce a cena con uno scrittore che si chiama Paolo Norie, che tutti voi sicuramente conosciute. All'epoca stavamo lavorando insieme a un libretto che si chiama Repertorio dei pazzi della città di Andria, che è un libretto che faceva parte di una collana uscita per la Marcosi Marcos. Mi permetto di dire che ultimamente ne abbiamo parlato anche con Marco Zapparoli al Salone del Libro di Torino, proprio dei repertori dei matti, tra cui quello di Andria, per cui gran libro anche quello. Grazie per averlo citato. E correva all'anno 2016 e sostanzialmente discorrendo con Paolo dei vari festival a cui lui partecipava abitualmente, lui ci raccontò questo aneddoto che a Modena, che è la città dove fanno tanti festival, tra cui il Festival Filosofia e quant'altro, aveva visto su un manifesto la pubblicità di un festival che si chiamava Festival della Gastroenterologia a Kilometro Zero. E che questa cosa lui l'aveva raccontata un altro scrittore che si chiama Carlo Lucarelli e insieme avevano convenuto che forse un vero festival letterario sarebbe potuto essere soltanto un festival della disperazione. Poi quel dialogo tra lui e Carlo Lucarelli, Paolo Nori, l'ha inserito in un bellissimo libro, suo libro, che si chiama Manuale di giornalismo disinformato. E allora in quella cena, diciamo, ho avuto la classica visione, mi si è accesa proprio una fiammella davanti agli occhi e gli ho detto, sai Paolo che forse questa boutade si può trasformare in un vero e proprio festival. E' un anno e mezzo dopo quella cena, è nata la prima edizione, naturalmente in quel periodo abbiamo lavorato al contenuto, come posso dire, tematico del festival. Abbiamo trovato intanto un punto di partenza che era una frase di Beckett trattata da Pseudo Seanforte in cui Beckett dice che la speranza non è che un ciarlatano che da sempre continua a prenderci in giro e che lui da quando aveva smesso di avere speranza aveva iniziato a stare bene. E che quella frase che Dante mette all'inizio dell'inferno, lasciate ogni speranza, voi che entrate, lui l'avrebbe messa davanti alle porte del paradiso. Quindi a partire da questo motto, diciamo così, abbiamo iniziato la nostra esplorazione nei meandri della disperazione, intanto analizzando il contemporaneo attraverso scrittori, intellettuali, pensatori, ma anche spettacoli di teatro e scoprendo un lato sorprendentemente comico e paradossale della disperazione. Partendo, e qui faccio un'altra citazione perché diciamo il festival è molto legato anche a spunti, citazioni e quant'altro, il poeta Raffaello Baldini diceva a chi l'ha detto che dalla disperazione si debba soltanto piangere ed in effetti con i tantissimi aspetti legati alla brutta figura, al fallimento, all'errore e quant'altro abbiamo scoperto che la disperazione fa molto ridere e quindi sono otto anni che tra il serio e il faceto proviamo a dare uno sguardo laterale innovativo sul mondo della letteratura e sul mondo del contemporaneo. Allora intanto Gigi, grazie per questo ampio spettro introduttivo rispetto al festival della disperazione sul quale, ripeto, tra i nostri spettatori e ascoltatori più attenti ci sono persone che avranno notato come da qualche tempo abbiamo acceso anche noi il nostro piccolo riflettore sul festival della disperazione, tra l'altro anche quest'anno eravate credo al Salone del Libro che ha dedicato anche nelle settimane precedenti uno spazio molto ampio diciamo alla vostra rassegna, correggimi se sbaglio Gigi, questo è un evento che è organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria se non sbaglio, che ancora una volta ripeto si terrà dal 7 al 16 giugno presso il seminario Vescovile e che quest'anno ha un tema, uno slogan, un payoff molto molto efficace dal mio punto di vista, come fai fai sbagli, cioè voglio dire lo sbaglio diventa l'elemento che in tutte le sue forme leggo nel comunicato stampa è la cosa che ci riesce meglio, insomma ovviamente usando una banalità se non fai niente non succede niente, se fai cose sbagli però questo come dire se vogliamo al di là della retorica è veramente il sale della vita, quindi quest'anno insomma vi siete focalizzati sul tema dell'errore no? Sì, come giustamente dicevi è più che altro un payoff che ci accompagna in questa edizione del festival che sicuramente racconta intanto la condizione di chi lo organizza questo festival che come dicevi effettivamente è l'ente che lo organizza, il Circolo dei Lettori di Andria che è un ente culturale che si occupa da una decina d'anni sul territorio di promuovere la lettura, la letteratura e su questo davvero come fai fai sbagli perché poi nonostante diciamo sforzi in mani molte volte i risultati sono assai deludenti e poi perché effettivamente anche a livello personale devo dire che le cose migliori che ho fatto nella mia vita sono gli sbagli perché davvero come fai fai sbagli ogni giorno anche nel tentare di realizzare questo festival che ogni anno in maniera rocambolesca sta in piedi perché una delle cose più difficili forse oggi in Italia ma non solo è quella di occuparsi di promozione culturale e ancora di più della promozione della lettura organizzare un festival è sempre un'avventura, noi siamo passati dall'anno scorso con la crisi del settimo anno con un'edizione davvero ridimensionata a questa in cui ci siamo detti tanto come facciamo facciamo sbagliamo e allora la rilanciamo alla grande ed è venuta fuori un'edizione davvero complessa particolata col maggior numero di ospiti rispetto a tutte le precedenti e una delle sottotracce all'interno della programmazione del festival è certamente anche quella dell'errore noi con questi payoff, questi claim vogliamo innanzitutto raccontare lo spirito con cui affrontiamo il festival il nostro lavoro che è sempre quasi sempre un disastro totale ci divertiamo, ci stanchiamo tantissimo e siamo molto contenti di portare sul territorio ospiti di assoluto valore sicuramente l'errore sarà una costante anche all'interno del festival non solo nei temi che tratteremo ma anche perché sono sicuro che ne combineremo di ogni e che ne sbaglieremo tantissime è che vi arrabbierete un sacco durante il festival ma poi ne riderete tanto dopo perché tanto poi le cose vanno così però per fortuna esiste l'opportunità e diciamo la possibilità di sbagliare senti sarò anche un po' sfacciato però per esempio mi piace moltissimo il logo del festival della disperazione che tu hai anche sulla tua maglietta ci puoi raccontare, noi siamo anche molto appassionati diciamo di iconografia se vogliamo questo fiore con il capo Chino diciamo rende plasticamente l'idea che sta alla base del festival della disperazione ci puoi dire chi ha realizzato, se c'è un nome intorno a chi ha realizzato questo bellissimo logo che accompagna il festival della disperazione? Sì assolutamente, a parte che a proposito di errore proprio collegandomi a questa trasmissione avevo sbagliato link e quindi rischiavo di collegarmi con qualcun altro quindi per la disperazione delle nostre bravissime ufficio stampa che si preoccupano del fatto che io riesca a collegarmi non sempre succede ringraziamo Silvia Bellucci insomma per il lavoro straordinario anche questa volta se non ci fossero loro io andrei a parlare chissà dove e tornando alla tua domanda sì il logo effettivamente ha bucato sin dalla prima edizione lo dobbiamo a un nostro caro amico che si chiama Giulio, Giulio Abbasciano che diciamo nel tempo poi ha dovuto per ragioni professionali allontanarsi dalla città di Aner e quindi in questo momento non collabora più con il festival della disperazione anche se è un grande amico del festival perché si è dovuto come spesso accade a queste latitudini trasferirsi per lavoro nel nord Italia e quindi può seguire meno però ecco la sua idea dopo ricordo ancora quel periodo in cui appunto quell'anno e mezzo prima di lanciare il primo festival in cui abbiamo ragionato molto sulla veste grafica, sull'identità e quant'altro e tra le varie proposte che erano sul campo molte volte legate al lettering del nome si è fatta naturalmente avanti ecco io penso molte volte che le scelte siano frutto anche di un'alchimia che sfugge alla razionalità delle scelte perché questo fiore è un po' sgangherato poi si vede impercettibilmente che il cerchio che lo contiene è storto, non è un cerchio perfetto si è fatto naturalmente avanti e nella sua semplicità è arrivato lontanissimo perché adesso è un simbolo insostituibile diciamo così per il festival della disperazione che innesta anche l'elemento fondamentale dell'imperfezione questo ci piace moltissimo è un match perfetto allora ovviamente io ho anche sott'occhio il vostro sito per chi ci ascolta, per chi ci segue, per chi nei prossimi giorni sarà in Puglia l'invito ovviamente come sempre è ad andare diciamo magari ad Andrea perché insomma il festival della disperazione ha un programma davvero mastodontico interessantissimo il sito è festivaldelladisperazione.it è chiaro che non posso chiederti di segnalarci qualche evento in particolare perché immagino che siano tutti figli meravigliosi diciamo della vostra organizzazione però leggo come dire un parterre pazzesco Vera Gheno, Ilaria Gaspari, Ghemon, Nicola Laggioia, Vito Mancuso, Irene Suave Mauro Kovacis, Chiara Tagliaferri e molti moltissimi altri da dove cominciare? Se uno avesse a disposizione diciamo un giorno o poche ore bel casino insomma farti sta domanda Gigi è un festival della disperazione per quello perché uno poi è in difficoltà nello scegliere cosa guardare e quale giorno partecipare io ho questa domanda, è una domanda che mi fanno sempre alla quale io non rispondo mai perché per me è veramente difficile indicare qualcosa al posto di un'altra il consiglio che do è che chiaramente diciamo il pubblico comprensibilmente è attratto magari dai nomi più conosciuti e invece il mio invito è sempre quello di lasciarsi affascinare anche da nomi all'apparenza meno conosciuti per i canali diciamo mediatici per la notorietà al grande pubblico ma si tratta comunque di appuntamenti incontri o spettacoli di assoluto valore e da spettatore perché diciamo a me piace sempre ricordare che questa cosa la faccio innanzitutto perché sono uno spettatore appassionatissimo di qualunque appuntamento culturale da spettatore invito i colleghi spettatori a lasciarsi incuriosire dagli appuntamenti più inusuali, più sconosciuti perché sono ricchi di sorprese e allora direi che insomma questo come dire questa diplomazia di Gigi Brandonisio è perfettamente calzante rispetto come dire però alla densità del programma del Festival della Disperazione allora intanto festivaldalladisperazione.it è il sito per tutto il programma ad Andrea dal 7 al 16 giugno 2024 ottava edizione sul tema come fai fai sbagli allora Gigi io ti ringrazio veramente moltissimo per averci dedicato questo tempo spero sia stato un buon tempo anche per te buon festival e speriamo di incrociarci presto insomma sì speriamo di vederci presto anzi disperiamo di vederci presto e ci vediamo senz'altro al festival sei il benvenuto e invito tutti quanti a partecipare grazie mille allora grazie ancora a Gigi Brandonisio prossimo passaggio musicale questi sono